Ciao amici, io sono Andrei Pascu, ho 21 anni, non ho un copione per questo video e adesso vi faccio vedere il mio ufficio da imprenditore 21enne. Andiamo. Il mio ufficio si trova a Bologna, in letteralmente pieno centro, e lo pago troppo, troppo. Voglio farti vedere più o meno, senza andare troppo nei dettagli, le cose che uso, come l'ho organizzato e perché l'ho organizzato in un certo modo. Perché negli ultimi due anni, da quando ho un ufficio privato tutto mio, ho sperimentato con tutte le postazioni e tutte le modalità possibili per vedere cos'è che funziona meglio per me. Forse sei un giovane imprenditore, se sei un giovane imprenditore che sta iniziando adesso, un autonomo, che un giorno vuole anche lui avere un ufficio, penso che questo video potrebbe darti un po' di spinta e motivazione per fare del tuo meglio, per arrivare forse un giorno ad avere una postazione, un posto lavorativo come il mio. Il mio ufficio è uno dei tanti, è letteralmente, l'ho misurato, ed è circa 3.3 metri per 3.3 metri. È un quadrato con due finestre. Come ti ho detto prima, passo qui un sacco, un sacco di tempo, quindi ho passato un sacco di tempo a provare a rifinire il più possibile la location in cui lavoro. Ci sono due postazioni, però la maggior parte del tempo sono qui da solo. Io sto da questa parte della scrivania, dove c'è il mio computer, il monitor, l'iPad e letteralmente tutto quello che potrebbe fisicamente servirmi. Quindi davanti a me ho il computer e dietro di me ho questi cassetti, dal quali posso avere oggetti a portata di mano, ad esempio cavi, schede SD, altre cose del genere. Perché ho questo ufficio? Cosa faccio esattamente? Che imprenditore sono? Faccio due cose principali. Faccio copywriting e ho un'agenzia di marketing. Questa agenzia di marketing si occupa di marketing, della parte copywriting, quindi della parte scrivere testi pubblicitari, e ci occupiamo un sacco anche della parte creativa e della parte video. Con i video ho avuto accesso a un sacco di servizi interessanti, un sacco di persone. E per quello che la qualità video delle cose che faccio è troppo alta, è ridicola, è solo un video su YouTube, non so perché mi impegno così tanto a fare le cose. Io non sono MKBHD, però oggi parliamo anche un po' di tech. Questo bel ragazzo alla mia sinistra si chiama Ronin, il suo nome, si chiama Ronin. Faccio vedere lui perché è ciò che ho usato per avere tutte quelle riprese interessanti che hai visto nel video. Penso che questo sia un video principalmente per curiosità tua e per motivazione. Non c'entra tanto quel mio canale con il copywriting, perché la parte video è una parte separata del mio business, però mi piace questa roba, quindi mi piace condividerla con voi e farvi vedere un po' di più della mia vita lavorativa. E mi piace farvelo vedere perché appunto so che tanti di voi hanno le stesse passioni che ho io, quindi mostrarlo, condividerlo con voi mi piace per davvero. E la cosa veramente forte e interessante è che lui a dire il vero fa tutto quanto da solo. Non ha bisogno di aiuto, è una persona autonomo, è libero. E adesso lui fa tutto quanto da solo, mi piace molto perché appunto mi permette di prendere quelle riprese forti che ho fatto in questo video. Il primo oggetto interessante è lui che ho comprato insieme a tutta l'altra attrezzatura di videomaking o due fotocamere. Questa fotocamera è la fotocamera con cui mi sto registrando in questo momento ed entrambe le uso praticamente per tutto, ogni singola cosa che faccio, anche i TikTok. Perché uso fotocamere professionali per TikTok? A dire il vero spesso, intenzionalmente, scelgo dispositivi che mi fanno una qualità minore, ad esempio questa GoPro che ho usato per un sacco di contenuti e non te ne sei mai accorto oppure direttamente questo telefono, questo è il mio e ti spiego anche che senso ha le scelte che faccio da punto di vista tech. Per quanto riguarda il telefono, questo è l'iPhone 14 Pro, non prenderò il 15 perché onestamente non è uno step up incredibile ma il 14 mi permette di fare delle riprese davvero incredibili ed è quel tipo di fotocamera portatile che puoi portarti ovunque e per fare content penso sia fantastico. Non pensare che se devi iniziare a fare content online o cose del tipo se sei uno appassionato e vuole fare content non pensare che ti serve il nuovo telefono o tutto quello che ho io perché io ho iniziato con uno Xiaomi cioè tutto quello che vedi in questo momento non c'entra per fare soldi, per iniziare perché io ho iniziato con un semplicissimo Xiaomi che ho ancora da qualche parte, non so dove in questo momento ce l'ho come ricordo, ho iniziato con uno Xiaomi che faceva schifo, faceva pessimi video ma ce l'ho fatta e questa roba, quello che vedi in questo momento, l'ho ottenuto non con i soldi di mamma, non con i soldi di papà ma con tanto lavoro, tutta roba che mi pago da solo e che ho comprato da solo senza prestiti, senza aver preso soldi da nessuno quindi sono molto fiero di questo ed è per dirti che puoi assolutamente al 100% senza ombra di dubbio ottenere le stesse cose siccome so che me lo chiederai che tastiera ho, che cos'è questa è una Kichron K7, la puoi trovare su questo sito, non costa tantissimo ho anche quella dell'Apple ma onestamente mi trovo malissimo è una tastiera meccanica ottica, penso, non so niente di tastiere però mi trovo benissimo mi piace il suono, è soddisfacente e quando ci clicco so che ci sto cliccando il mouse è un super light della Logitech G7, non lo so che cosa sia semplicemente è quello con cui mi trovo meglio ho scelto un mouse leggero e questa è una cosa che ti consiglio di cercare prima avevo un mouse wireless un po' più pesante che aveva le batterie dentro ho scelto questo che è molto leggero perché letteralmente dopo tante ore di lavoro con il mouse succedeva che mi faceva male il polso letteralmente, non sto scherzando, veniva il carpal tunnel per colpa del mouse che pesava troppo quindi ho scelto questo andando avanti che computer ho, che dispositivo utilizzo il mio computer è un MacBook Pro M1 perché ho un MacBook Pro e non un MacBook Air perché mi permette di editare i video e regge abbastanza bene video in 4K di alta qualità lo schermo invece è uno schermo da 2-300€ in risoluzione 2K e mi serve qualcosa di rialzato perché se sto con la testa tutto il giorno così nel computer fa male la cervicale e cose eccetera e tra l'altro queste sono cose di cui non si parla mai nel mondo della produttività e imprenditoria però vi consiglio vivamente di comprarvi uno schermo esterno e di alzarlo un pochino di qualche centimetro così potete guardare dritto quando lavorate e non stare curvi tutto il tempo se non potete comprare uno schermo ci sono su Amazon questi piccoli mount che potete usare per alzare il laptop, il portatile, quindi lo avete più in alto e state dritti non è una cazzata, ve ne pentirete tra 1-2 anni di lavoro continuo vi farà male tutto quanto, non sapete perché? oh mio Dio mi fa male la cervicale, perché? perché hai curvo come un cane tutto il giorno a lavorare, ok? quindi prendi gli attrezzi giusti per il lavoro la salute conta per me è molto importante che riesca a fare le cose velocemente e che tutto quanto sia a portata di mano non voglio cercare cose, voglio che tutto quanto sia organizzato per il mio workflow e per come io lavoro e come io ragiono le cose quindi a sinistra della mia scrivania ho questo device che ho preso dalla Apple e costato troppo, non voglio chiedere neanche tipo 160-170 euro sto caricatore che mi permette di caricare i miei device principali partendo dal mio Apple Watch che utilizzo e che onestamente non è il mio acquisto più intelligente il mio iPhone e anche le mie AirPods Pro quando mi servono per quanto riguarda la parte audio io utilizzo quasi sempre dispositivi Apple tranne che quando devo monitorare audio in quel caso utilizzo delle cuffie, dell'audio tecnica vabbè però per editing e tutto quanto uso sempre wireless non mi piace avere il cavo di mezzo tutti i miei dispositivi per quanto possibile sono wireless quindi ho o le AirPods Pro o le AirPods Pro Max come si chiamano un altro strumento che utilizzo sempre e che è sempre a portata in mano quindi come vedi ce l'ho proprio dietro di me e lì è dell'iPad l'iPad perché ce l'ho? perché l'ho comprato? a dire il vero per vari motivi una cosa per cui lo utilizzo un sacco è nei miei corsi o dei videocorsi di marketing nei videocorsi aiuto i miei studenti a capire meglio i concetti magari disegnando su una lavagna digitale ho anche una lavagna fisica sulla quale a volte faccio brainstorming e poi lo utilizzo anche per quando ho un copione per un video lo metto su questo aggeggio e posso guardare il copione mentre registro il video ce l'ho sempre a portata di mano sempre di fronte anche questo super super comodo di nuovo tutto quanto è studiato per il mio specifico modo di fare e il mio specifico modo di lavorare passo tante tante ore qui dentro e soprattutto nei giorni nelle settimane in cui devo lavorare tanto sono qui per 8, 10, 12 ore di fila quindi mi servono strumenti che lavorano con me e per me non contro di me uno strumento che potrebbe sembrarti esagerato ma che ho comunque preso è questo che è un trackpad che è tipo il trackpad quello che tu hai sul laptop però ed è wireless e ce l'ho sempre sulla scrivania e l'unico motivo per cui ce l'ho è per fare due cose per scrollare e per zoomare e niente più o meno questo è il tour del mio ufficio è molto bello il servizio che loro ci offrono perché abbiamo pulizie incluse abbiamo vari posti sto sudando perché fa caldo qui dentro abbiamo vari posti tipo una lounge al secondo piano una lounge al quarto piano e adesso non posso portarti perché è notte e non si vede niente però abbiamo un rooftop dove possiamo vedere la torre di Bologna abbiamo Piazza Maggiore da una parte abbiamo sotto via Rizzoli è davvero una bellissima vista quindi se vuoi imparare a fare marketing o imparare a fare content creation per andare virale ogni singola volta che posti un video su TikTok non su YouTube perché su YouTube guarda le views non sono bravo ma se vuoi capire come andare bene su TikTok io ho 260.000 follower ti insegnerò esattamente come fare clicca il primo link in descrizione ti serve solamente un telefono e non deve essere neanche un buon telefono ci becchiamo presto ciao 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 ciao